Dopo oltre sette anni dal crollo arrivano dalla regione importanti novità sul ripristino dei conci della diga di Montedoglio in Valtiberina. Era il 29 dicembre 2010 quando vennero giù i conci che sul lato sostengono l'impianto e da lì l'acqua dell'invaso si riversò nel Tevere provocando nella piena. Noi interverremo entro l'anno per la ricostruzione dei conci nella diga di Montedoglio che è il bacino d'acqua più grande del paese, dell'Italia centrale. Con questi conci nuovi mal costruiti quelli in precedenza e finanziati da chi li aveva costruiti male potremmo portare da 90 milioni a 140 milioni le potenzialità di questo bacino e quindi rendere ancora i terreni maggiormente rigui e questo lancerà ancora di più l'agricoltura.